Il tema di questa prima puntata del 2012 dei nostri focus è il metodo Kaizen una parola che arriva dal Giappone significa in qualche modo miglioramento continuo via al rinnovamento ne parleremo con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi con noi c'è Alessandro Garofalo che è vicepresidente di Trentino Sviluppo benvenuto un cordiale benvenuto anche a Michele Chini che è il direttore dello stabilimento della Tama che si trova a Mollaro di Taio in Valle di Nono un'azienda che negli ultimi mesi ha sperimentato con successo un cantiere Genba Kaizen Buonasera Benvenuto Dunque dicevamo che si parla di innovazione innovazione all'interno delle imprese per risparmiare tempo e risorse un metodo nato in Giappone insomma in una grande azienda nella Toyota che è stato importato anche in Trentino proprio da Trentino Sviluppo circa sei anni fa vediamo in questo primo contributo filmato allora di che cosa si tratta c'è un'intervista ce lo spiega Carlo Rato che è il responsabile del Kaizen Institute Italiano il significato di Kaizen è composto dalle sue due parole la prima è Kai vuol dire cambiare cambiamento la seconda è Zen Zen vuol dire bene andare verso il meglio quindi Kaizen vuol dire cambiare per migliorare Kaizen il cambiamento lo fa attraverso gli eventi Kaizen che noi chiamiamo i cantieri Kaizen e sono dei cantieri Gemba Kaizen Gemba vuol dire dove lavorano le persone dove succedono le cose ed è proprio grazie alla collaborazione con Trentino Sviluppo che abbiamo fatto diverse sperimentazioni che verranno poi portate a disposizione anche del settore più allargato diciamo delle sperimentazioni pilota in molti settori della provincia di Trento il settore mi piace ricordare non solo il settore meccanico il settore dell'industria manifatturiera ma anche il settore delle funivie è un esempio unico credo nel panorama italiano è un esempio nel settore alimentare nel settore agroalimentare nel settore caseario dunque un metodo che cerca di migliorare l'organizzazione aziendale e la sua efficienza adatto a diversi comparti e anche a imprese di diverse dimensioni insomma anche le piccole e medie imprese trentine allora vicepresidente di Trentino Sviluppo Alessandro Garofalo ci facciamo dire da lui appunto perché Trentino Sviluppo ha puntato su questo metodo su questa metodologia e l'ha importata in Trentino ma diciamo sei anni fa forse in un modo un po' visionario non c'era la crisi volevamo dare un contributo al territorio alle imprese del territorio soprattutto le medio piccole a cominciare a ragionare sulla produttività per noi era molto importante cominciare a fare delle riflessioni per dare strumenti e tecniche pratiche utili diciamo e concrete non solo da grandi imprese alle piccole per soprattutto imparare a ridurre gli sprechi quindi operare sul tema della produttività quindi imparare a ridurre insomma i tempi di percorrenza degli attrezzaggi imparare a ridurre gli sprechi a migliorare il livello qualitativo tante aree dove sostanzialmente ci sono sprechi è stato un progetto pilota che mi pare dai dati ha avuto successo ecco abbiamo visto appunto che si parla anche di cantieri Kaizen insomma questo metodo diventa un vero e proprio cantiere quanti ne avete aperti in Trentino e con quali i risultati? allora dati e fatti quindi bisogna citare i numeri quindi ho anche un piccolo foglio di supporto perché non li so a memoria quindi ad oggi in tutti questi anni abbiamo attivato 13 cantieri effettivamente in 4 anni però un po' particolari perché abbiamo coinvolto ben 32 aziende e circa 200 persone che sono state coinvolte all'interno sia nella formazione che poi nella realtà come ha già detto Ratto nel filmato i settori sono diversi meccanico agroalimentare funiviario di sicuro come è già stato accennato è quasi unico nel suo genere perché pensiamo di essere stati i primi nel panorama industriale italiano a farlo ma anche quelli dei servizi alla persona il sanitario e il lapidio estrattivo siamo passati da grandi aziende diciamo l'azienda pilota che ci ha dato una mano luxottica che è un marchio e un brand diciamo chiaro a tutti dove l'operazione ha avuto successo a micro aziende più piccole come la Vaga Bontà passando anche per aziende poi come la Sovecar e a media imprese invece come Tama che abbiamo qui accanto con risultati eclatanti sono cantieri diciamo multi aziendali in cui abbiamo portato a casa grazie all'operato dei nostri associati buoni risultati aumento di produttività tra il 10-50% riduzione fino al 40% degli spazi occupati 50% del contenimento dei difetti riscontrabili sul prodotto quindi dati e fatti direi molto concreti ecco allora abbiamo in studio come detto il rappresentante di un'azienda trentina che ha applicato al suo interno la metodologia Kaizen e lo ha fatto a partire dal settembre del 2011 parliamo della Tama di Mollaro di Taio ci vuole illustrare il direttore dello stabilimento allora di che cosa si occupa questa azienda come è nata insomma e qualche numero magari sulla sua attività sì innanzitutto Tama acronimo di tecnologie avanzate miglioramento ambientale nasce circa 25 anni fa come azienda artigianale dal nostro titolare Coletti Giovanni che oggi è riuscito a portare la realtà a un livello industriale contando circa 60 addetti totali su una superficie di 16.000 metri quadrati a Mollaro in Val di Nonna e con una filiale in Francia a Lione e un'altra filiale a Barcellona in Spagna quindi avete già internazionalizzato insomma esatto e cosa fa Tama? Tama si occupa di progettare e costruire componenti e impianti di aspirazione e di filtrazione per la depurazione dell'aria che risultati avete ottenuto portando il metodo Kaizen all'interno della vostra azienda immagino che si sia stata anche una certa diffidenza iniziale insomma non è qualcosa calato dall'alto? No io definirei quasi un'esperienza scioccante nel senso positivo del termine in quanto Kaizen entra in punta di piedi in azienda non dà niente per scontato ma non giudica le persone ma soprattutto aiuta a prenderti per mano ti porta all'interno dei processi di lavorazione cercando in maniera molto visuale di differenziare quello che è valore e non valore per il cliente quindi non vengono messe in discussione le competenze delle persone ma i processi esistenti all'interno dell'azienda Kaizen è esclusivamente focalizzato sul processo non sulle persone non un approccio aggressivo in punta di piedi assolutamente no in punta di piedi tra l'altro mi piace definirlo come un sistema basato sul fare non si fa teoria viene fatto direttamente nel Gamba quindi dove avviene il processo tra l'altro a piccoli passi non prevede investimenti particolari niente di trascendentale semplicemente un centimetro alla volta è tutto fatto in maniera reversibile quindi non c'è neanche il terrore di sbagliare perché comunque è facilmente ripristinabile la situazione precedente certo ci sono anche altre realtà produttive delle Trentino che hanno fatto queste sperimentazioni allora in questa prossima pillola filmata andiamo a curiosare andremo a San Martino di Castrozza a Grigno e a Roveretto in particolare questa esperienza è stata io a me piace dire come uno tsunami quando è arrivato qua in azienda nel senso che all'inizio si doveva capire un attimo la filosofia Kaizen e poi alla fine tutti quanti ci si è dovuti un po' adeguare e cercare di sforzarci di capire alla fine è stato bello vedere il gruppo che si era creato che in un primo momento aveva lasciato un po' perplesso e poi tutti quanti con l'esclusione di nessuno proprio si sono motivati e si sono andati da fare per cercare di migliorare cioè migliorare la situazione che c'era in azienda o comunque trovare delle idee nuove abbiamo imparato a vedere le cose con un'ottica diversa metterci nella posizione del nostro cliente e a ragionare su cosa cliente vuole invece che su cosa noi diamo il primo cantiere Kaizen sullo stabilimento Luxottica di Rovereto ha trovato il suo ambito di realizzazione sul reparto saldatura il risultato più vistoso del lavoro sul reparto saldatura è stato il raggruppamento degli iniziali tre reparti suddivisi per lavorazioni in un unico reparto suddiviso su isole integrate a U il fatto di avere messo le lavorazioni a flusso una vicino all'altra praticamente in tempo reale ci ha consentito anche di abbattere del 70% le riparazioni portando subito in evidenza le eventuali non conformità ecco Kini anche voi alla Tama di Mollaro siete partiti proprio dal settore produzione quali risultati avete ottenuto e quali sono gli obiettivi per il futuro insomma mi pare che si accennasse anche a uno sviluppo futuro in altri reparti della vostra azienda si i risultati diciamo li possiamo dividere in due abbiamo quelli concreti quindi misurabili con numeri posso parlare ad esempio di tempo di attraversamento ridotto di circa un 60-70% quindi il famoso lead time dall'inizio della prima lavorazione al termine dell'ultima lavorazione quindi un processo molto più veloce una riduzione del work in progress dei semi lavorati di circa un 75% il magazzino che scende di circa un 30% uno spazio liberato in termini di metri quadri all'incirca del 30% e un aumento della capacità produttiva addirittura del 20% però il risultato più eclatante di Kaizen che si vede internamente e difficilmente quantificabile a livello di numeri è nel coinvolgimento delle persone in come Kaizen ci sta aiutando a riconoscere perlomeno i nostri paradigmi le famose frasi abbiamo sempre fatto così senza sapere il perché ci aiuta a lavorare in team veramente e tra l'altro ci aiuta a ragionare non più nell'ottimizzazione dei reparti ma nell'ottica del processo globale quindi andare a vedere effettivamente cosa vuole il cliente e non cosa effettivamente vogliamo noi come ottimizzazione dopo questi primi miglioramenti non vi fermate qui comunque che cosa avete ancora in cantiere non ci fermiamo anche perché Kaizen credo possa essere tradotto anche come miglioramento continuo quindi la continuità deve essere data giorno per giorno con Kaizen si sa quando si parte e non si arriva mai e sull'onda comunque dell'euforica dei risultati ottenuti stiamo già facendo un ulteriore cantiere a livello commerciale dove andremo a analizzare il processo di vendita integrato poi con un cantiere marketing e un cantiere di gestione commessa anche perché quando un'azienda comincia a fare Kaizen o lo fa dall'inizio alla fine oppure non lo fa Garofalo qual è il segreto di Kaizen insomma tanto buonsenso verrebbe anche da dire si però anche con la piccola clessidra che ho messo qua prima che si vedeva oggetto totemico delle nostre puntate esatto per sottolineare quello che diceva Michele Chini quando parlava proprio del discorso che le idee nascono dagli operai dagli impiegati cioè dal basso e non dall'alto questo è sicuramente importante quindi è un processo tra virgolette democratico di gestione della creatività collettiva possiamo anche dire da questo punto di vista per dare maggiore innovazione e competitività alle aziende trentine trentino sviluppo ha anche altri strumenti vogliamo vederne alcuni sì, diciamo è una costellazione un piccolo mosaico e caledoscopio di tanti servizi il trasferimento tecnologico ormai già noto insomma delle aquile blu che consiste nel avvicinare il mondo delle piccole imprese al mondo della ricerca scientifica che abbiamo sul territorio che è vastissima e di alta qualità ricordiamo le aquile sono persone il blu è il colore dell'innovazione sì giusto non avendolo precisato persone molto esperte non potrebbe sembrare che siano dei rapaci che girano sul nostro territorio è solo una metafora grazie del suggerimento poi il prodotto quality function deployment cioè aiutare l'azienda a sviluppare prodotti più velocemente con tecniche appropriate che qui non andiamo a toccare l'hub della creatività per i cluster quindi un laboratorio dove le aziende anche tra loro concorrenti all'interno di un cluster possono contaminarsi per trovare nuove idee di business e ultimo nato anche col nome il servizio chioccia cioè dare la possibilità a giovani o meno giovani che hanno delle idee di provarci al modico prezzo di un caffè al giorno stare da noi non in incubazione non in seed ma solo per vedere se quell'idea può essere percorribile se è percorribile bene partono i servizi tipici di Trentino Sviluppo se non è percorribile però almeno la persona ci ha provato benissimo grazie allora al vicepresidente di Trentino Sviluppo Alessandro Garofalo per essere stato con noi grazie e buon lavoro anche a Michele Chini che è direttore dello stabilimento Tama di Mollaro di Taio in Valle di Noni il prossimo appuntamento con una nuova puntata di Focus Territorio e Sviluppo e per il prossimo 29 febbraio 2012 grazie per averci seguito buona settimana a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti